male 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 ragazzi molto male non una bella partita da parte del napoli nonostante i primi minuti davano anche qualche segnale incoraggiante poi abbiamo preso gol brutti tutti gol brutti il primo gol questa è un'analisi ragazzi dallo stadio non ho potuto vedere i replay né tutto quindi se c'è qualche errore qualche falla perdonatemi però quello che sono riuscito a vedere dallo stadio è che il primo gol è un gol molto evitabile che con un poco di cattiveria in più non prendi un gol molto rocambolesco il secondo gol è un altro gol evitabile è un classico gol che prende da sempre il napoli il gol in ripartenza che tu non fai il fallo e prendi il gol poi lì meretta deve prendere perché quella palla meretta la deve parare dieci volte su dieci non nove volte su dieci perché il pallone centrale tra l'altro altra papera anche sul terzo gol che poi è stato annullato almeno dallo stadio così sembrava l'impiantato sulla linea di porta dopo una grandissima prestazione a milano oggi meretta inguardabile veramente inguardabile forse il peggiore in campo dei nostri il terzo gol arriva su quello che sembrava essere un fallo su david negas poi meretta prova a ricostruire dal basso e prendiamo gol con con reteghi doppietta dunque di lucman gol di reteghi la seconda sconfitta stagionale del napoli sempre per 3 a 0 dopo quella di di verona anche a napoli contro l'atalanta che ha preparato una partita eccezionale che era molto più sul pezzo e questo deve far preoccupare perché questa è la prima settimana praticamente che il napoli ha avuto non ha avuto la settimana tipo deve far preoccupare ma fino a un certo punto perché dopo la partita di martedì non eravamo da scudetto non era una stagione da scudetto e dopo questa partita non diventa una partita non diventa una stagione da retrocessione il napoli è una squadra in ricostruzione la gente che dice che napoli è obbligato a vincere lo scudetto lo fa solo ed esclusivamente per mettere pressioni su una squadra che l'anno scorso ha fatto il decimo posto il decimo posto tu in nessun mondo neanche se forse solo se compri se compri solo se compri messi e cristiano ronaldo prime se fai il decimo posto poi sei obbligato a vincere lo scudetto tu non sei obbligato a vincere lo scudetto quello che fa rabbia è che non è stata una partita contiana nel senso che penso che sia questa una delle cose che recriminerà principalmente ai suoi Antonio Conte perché il fatto che una squadra di Conte non faccia un fallo per evitare una ripartenza non è proprio il massimo prendere gol da una mischia rocambolesca non è il massimo prendere gol a partito ormai finita abbassando l'attenzione non è il massimo e sono tutte cose su cui credo Conte lavorerà tanto ma ripeto queste non devono essere novità perché il Napoli deve lavorare tanto il Napoli deve lavorare tanto e ripeto parlo sempre di impressione dallo stadio sembrava nei primi minuti anche prima di subire il gol che sembrava il Napoli la squadra che voleva proporre il gioco e penso che sia anche l'Atalanta che si sia abbassata appositamente per questo consapevole che magari il Napoli potesse avere difficoltà in questo per poi puntare sulle ripartenze perché ha degli ottimi giocatori per ripartire l'Atalanta tra l'altro eccezionale secondo me Gasperini nella scelta di lasciare fuori Retechi e di mettere De Ketteler e Luckman non dando un punto di riferimento a quello che è il migliore in marcatura ad uomo a uomo di tutto il campionato che è Alessandro Buongiorno che è uno di quelli che oggi secondo me si è salvato insieme ad Olivera insieme a McTominay che ha fatto un grandissimo primo tempo sperando anche il gol e insieme a Simeone che è entrato nel secondo tempo e che ha fatto molto meglio di Lukaku che ha fatto una partita orrenda molto più nel pieno del gioco meno questo possiamo dirlo come come plus ma completamente divorato da Ien ed in balia della partita perché Lukaku era completamente in balia della partita non bene Quarazkelia Politano ha fatto qualcosina a McGilmour in realtà non è dispiaciuto ho sentito qualcuno a cui non è piaciuto chiaramente non è Lobotka però a McGilmour non è dispiaciuto per niente Meret ripeto probabilmente il peggiore insieme ad Anghissa nel secondo tempo perché Anghissa nel secondo tempo molto male entrano anche Neres che non incide praticamente mai della prima volta probabilmente da quando è a Napoli entra Neres, entra Simeone, entra Spinazzola che entra bene stranamente entra Raspadori che non è entrato particolarmente male e non mi ricordo se abbia fatto 4 cambi o 5 perché al momento mi vengono in mente solo Raspadori, Simeone, Neres e Spinazzola penso che siano stati questi 4 cambi di Antonio Conte correggetemi nei commenti se sbaglio comunque partita che avremmo perso a prescindere ma bisogna sottolineare l'arbitraggio indecoroso di Doveri ripeto sempre dallo Stato ma sembrava chiamasse tutte le cose al contrario ma sia da una parte che dall'altra calci d'angolo non dati all'Atalanta date falli non dati all'improvviso arbitrava l'inglese poi certo ha iniziato chiamando tutto ha finito arbitrando l'inglese l'unico giallo penso l'abbia dato su Ngong con la Scinas su Ngong un fallo bruttissimo tra le altre cose poi tutte le cose a metà non le chiamava praticamente mai ripeto sempre a tratti cioè non hanno mai a tratti ma nel senso non c'è mai stato un metro preciso all'interno della partita e questa è la cosa che mi infastilisce più di tutto una volta che tu utilizzi un metro lo dovresti utilizzare per tutta la partita sarebbe questa la cosa più sensata ed equa ed equilibrata da fare ma ovviamente non si tratta di attaccarsi all'arbitraggio ma di aggiungere all'interno di un'analisi perché anche questo chiaramente influisce sulle partite come la brutta prestazione del Napoli il Napoli avrebbe dovuto fare la prestazione dell'Atalanta ovvero soprattutto all'inizio perché l'Atalanta è molto consapevole Gasperini è perfettamente consapevole che se il Napoli si chiude basso e riparte è molto difficile è molto difficile fargli i gol ed è molto difficile anche contenere i tre che ripartono lì davanti quindi oggi male oggi male c'è l'Inter c'è l'Inter settimana prossima e non sarà per niente facile almeno si potrà preparare la partita con una settimana dopo che l'Inter avrà l'Arsenal ma una prestazione scadente e sbagliata in tutto e per tutto quindi questo è quanto ragazzi purtroppo purtroppo si commenta una sconfitta oggi detto ciò mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete Facebook Instagram Twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7Shorts il mio canale pubblico teleclippo momenti iconici momenti divertenti del canale TikTok preferiti ragazzi noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita Forza Napoli Grazie